... Posso fargli una domanda? Sì. E' condivisa la vostra scelta? Assolutamente condivisa, è frutto di un accordo, crediamo che sia un Presidente che unisca e auspichiamo che venga votato alla prima votazione, sarebbe un bel segnale. Non prendo in esame questa ipotesi, se non ce la dovesse fare vuol dire che è finito il Partito Democratico, che Bersani cambia paese.